È un settembre 23, 2017 a Tarci Dall'O, in Castiglione dell'Estiviere, Mantova, Italia. In solo un po' immagini sono una partita di Simone Enrico Belli di Gabbagabahey. Siamo qui con Mattia, il drummer dell'italiano punk rock band The Livermores. Ciao Mattia, come sei? Bene, bene. E niente, siamo qui alla Città Dall'O. Ci hanno chiamato, i personali, e niente. Non vediamo l'ora. Ho fatto tanta strada. Sono parecchio stanco, però non ce la faremo. Thanks.